Ma come mai fuori non funziona e qui sì? Yeah! We can! Purtroppo la manutenzione delle strade e soprattutto il decoro del verde pubblico in città langue è sotto gli occhi di tutti. Questa volta nello specifico porto all'attenzione quella che è via San Benedetto più comunemente chiamata così ma in realtà è la strada provinciale 289 cioè quella che collega la frazione di Sant'Arcangelo all'Abbadia. Sono stato fermato da cittadini i quali mi hanno posto una problematica da loro già sollecitata con una petizione fatta alla provincia ma per conoscenza anche al sindaco per sollecitare la manutenzione su questa strada e sul verde pubblico. In particolare loro fanno presente che ci sono tanti alberi oltre ovviamente alla boscaglia tanti alberi secchi che più volte sono caduti sulla carreggiata mettendo ovviamente in pericolo i passanti e gli automobilisti. Più volte sono intervenuti sia i vigili del fuoco e anche la polizia municipale soprattutto all'altezza della falegnameria Masullo. I cittadini ovviamente mi hanno sollecitato di fare questa raccomandazione che io in Consiglio Comunale ho portato all'attenzione dell'amministrazione nella speranza che la strada provinciale venga interessata da lavori, venga interessata da questa manutenzione e possa ridare non solo decoro ma soprattutto una sicurezza ai cittadini che la invocano a gran voce.